E piccolo spoiler sull'impianto fotovoltaico che sto realizzando in totale fai da te come vi ho già anticipato che tra breve uscirà il video completo sto facendo un test in orario di picco dove il sole è perfettamente perpendicolare ai pannelli e come mi misura il tester, vedete che ho messo sui connettori mc4 il tester ho 22.4 volt su tutti i pannelli la scheda tecnica del mio pannello è questa qui mi rinquadro un po' così la riuscite a leggere e capite che più o meno questi pannelli rispecchiano quello che mi è stato detto sulle specifiche che lavorano in verticale in pratica questi pannelli come vedete non hanno inclinazione ovviamente questa è una prova, poi verranno inclinati perché sto costruendo tutta la struttura per inclinarli verranno messi più o meno a 45 gradi anche se durante le tre prove che ho fatto la media dei volt è sempre questa andrà a calare un po' verso la sera quindi ho una buona produzione al prossimo aggiornamento